7 fase finale per la tretatella azzurra vediamo il cronometro 19.745 per lui seconda batteria 7 abbastanza pari il metà giro vediamo il fourth finish il cronometro finale 18.849 per Ardith Vollai 19.327 per Matteo Grandesso 7 leggermente avanti la tretta del Merate vediamo il finale 18.633 per Masiru e 18.771 per Achille San Giorgi in position set andiamo a questo giro crono per la tretta della polisportiva con l'occhio da Spinnett Bergo 18.327 per Achille San Giorgi 18.327 per Achille San Giorgi 18.327 per Achille San Giorgi e quindi leggermente avanti la tretta della pietra di Spinnett e vediamo le conferme al finale 18.425 passata in testa la tretta della Roma 7.18.660 0, 7. Rieserviamo avanti l'atleta di casa al metà giro. Vediamo il finale. 17, 7, 8, 8 per Giacomo Mazda. 18, 7, 7, 4 per Giacomo Grandesso 7 Andiamo Davide Andiamo, andiamo Vediamo le conferme sul traguardo 18, 171 per Davide Casoni, 19, 172 per Gianluca Giolo 7 Vediamo le conferme nella fase finale 17, 770 per Gianluca Giolo Simone Baroni, 20, 0,43 per Marco Silvestri E' partita la nonna batteria composta da Elia Megiolaro dell'Antececcato ed Elia Marchese dei Matenatori Spinea 18, 718 per Elia Megiolaro, 18, 790 per Elia Marchese In position In position Set 0,29 per Matteo Bernabei, 0,29 per Matteo Bernabei, 18, 311 per Riccardo Bossi Open position On position Non si può poter E portate perterla Unoug HAO vediamo i tempi di chiusura 17,704 per Giacomo Bernabé 19,302 per Emanuele Balini in position 7 vediamo avanti al metà giro l'atleta dello Spinea tempi di chiusura 17,919 per Davide Benegaldo 25,45 per Gabriele Baglietta in position 7 vediamo il punto finale 18,157 per Andrea Benegaldo 18,185 per Emanuele Baglietta 1 1 1 1 2 1